boh pensavo stamattina boh forse mi sta unendo perché avevo i miei eroni ma non è quello di gianluca c'è il mondo non è di gianluca cosa? ma io mi sono unito no c'è scritto partecipa alla sessione c'è scritto ma mi faceva partecipare che devo fare poi se non si sconnette qualcuno minchia da quanto tempo che non giochi a gta? dobbiamo andare su gta? no aspetta vabbè fortnite qualcos'altro rocket league minchia ma ma non erano i coglioni sti sbirri ah no e come si chiama watch dogs che ci giochiamo e poi facciamo il bug del muletto minchia gianluca minchia di abriel ci sono dei video su youtube che spaccano quelli la vecchi con pinnacoli pendenti che c'era super ma c'era l'altro eh se li rivedi c'era il mio amico in barco giochi con michele e giuliano no non è vita non è vita eh sì sì che c'era che c'era in due in due in due in due alcune volte vabbè possiamo rifarli io se c'è Giuseppe con cosa sei? con cosa sei fra? dove l'hai? venuto qua devo andare addosso a prendere il jet ma lo sai che io su GTA ho shoppato quasi tutto ah? con graduazione se è stato ricompensato di 5 mila mi fai provare l'aereo l'aereo militare che è l'aereo? il jet il jet ce l'hai? non lo so questo ho un sacco di soldi questo non è avuto vita per me ah ma sta giocando da casa tua o? no no eh vabbè siccome tu ne hai due playstation non è che non ci credo ci credo no no gli ero dato tu e se ne hai due scusa e infatti è quella sua no vi ho invitato tutti venite averlo attaccato le casse non ho attaccato le casse non sento un cazzo non la dv ah no mi si è buggato tutto l'audio aspetto gianluca io lo volevo dire tu che ti amo di brutto ma noi che pavari gabriele ah scusa aspetta aspetta devo scendere le scale di tutto torna ho pagato che pavari fermi tutti non pagate non pagate ormai dopo no fermi non ne voglio soldi un pezzo di ho messo gratis ho messo gratis si può ho messo grande si può ah c'è disco deca disco music era offerta libera ma che cazzo sta facendo ho visto di buoni è quel ma do la griuccia di nuovo io qua scioppato tutto sul mio sul mio profilo ma che musica è ma che potete salire se volete c'è la scala tony prince qua qua c'è uno depresso e sta nella sedia ma c'è troppo buio io non ti vedo oh chi è qua ma signorio io non ti ascolto aspetta 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 posso posso passare io te lo do io aspetta fermo fermo lì fermo lì sto arrivando vai offro tutti guarda mettiti qua mettiti qua che te lo offro io guarda Gianluca salite vai te la verso io avvicinati aspetta funziona ma funziona no lo sto bevendo io ah no non lo sto bevendo per servire ok per servire da bere ma come si esene vieni qua vieni qua vieni qua ho messo tutto tutto pubblico c'è anche le macchine ah ma te le gocce stupest chi è è stanco non è stanco se tu non la senti ah in questo qua c'è il night praticamente c'è uno nel bagno che vuole un euro te lo giuro vuole un euro questo è la sedia qua ci sto impegnando le luci aspetta si questo si fa sempre bene con le ciabattine ma non lo so senti un attimo Giuliano io sto superando sai dove sto superando un sacco sull'Xbox One o GTA 4 siccome non so se tu ti ricordi o Gabriele Monzone mio amico te lo ricordi eh vabbè Gabriele Monzone mi ha regalato tutti i suoi giochi dell'Xbox che lui si è colmato all'Xbox One cioè che lui eh si è compatibile ci ho provato solo con GTA funziona funziona ci ho provato lo sto superando infatti eh venite qua c'è la scala eh qua ci sono le macchine ci sono le macchine prendevamo le macchine vabbè esco io con la macchina va eh lo so eh questo era l'unico che costava di me eh infatti ma sai che c'è anche l'arcade qua tipo la sala giochi come Stranger Things minchia la performante la trasformante restate lì che ora eccomi sono qua usciti tutti questa è una rapina ma riunni si ne esce vieni 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 no no ecco sei rientrato il teletransporto hai usato il teletransporto mi invito tutti nel mio cielo ah così a me non uscite subito non siamo usciti siamo usciti cosa un video cazzo ne so ah io l'ho invitato così sta dalla mia crew usate il cellulare e andate sull'occhio ok uno c'è un chioni la mia si no sparatevi no ma che dici dove è Giuliano non lo so aspetta aspetta che prendo prendo ma come c'è un video ah Gabriele eh che c'è vuoi chiamatura sbiricuta praticamente scappellata a destra vabbè non a sinistra non a sinistra non a sinistra a destra Gabriele cosa cosa stai dicendo ti sto dicendo che prematura è a sinistra la beveratura la beveratura io non capisco prematura la supercazzola è a sinistra ma che Gabriele eh stai capendo no io non capisco niente te lo giuro ma come Gabriele la vai cioè ti sto dicendo vai guida guida è a destra anzi no suona guido io guido io guido a me ma dove è finito giurato manco si andrà più in video in videochiamata oh fermo di spacciare lo spot mi fai guidare a me c'è tutto il sangue nella macchina io sto guidando certo certo ma ti aspetta ma ti aspetta Giuliano ah no a beh guido cito guido cito tanto poi la rompi la paghi non è manco il nostro cielo aspetta aspetta ma Giuliano si può sapere dove sei in un video ho capito ma non ha senso ma l'introduzione quello di ieri non mi sono entrato nell'area vittura non l'avessimo fatto anche come ieri ah ma quello è l'introduzione anche a me me l'ha fatto in discoteca a tre ore quello che mi parlava sì lo so lo so anche io ho fatto mi sto cercando la macchina che suona ma oh Gianluca sta sperando di 5 stelle la polizia oh cazzo sono volatinaria meno male che non m'ha preso cazzo vuole la polizia cazzo vuole cercare sperabbe va io sono volatinaria sali sali faccio entrare faccio entrare ma che ti stavo dicendo moreremo ah non potete entrare no ma perché perché non mi fa entrare aspetta ah non fate il motorismo ma perché mi fa entrare manca a me ah non mi fa entrare manca a me te lo giuro guarda 4 stelle ma non mi fa entrare eh vabbè secondo me l'ha distrutta ma che ci ha buttato sotto la rovaina quanti poliziotti ma che cala fiduti qualcosa world zone non aspetta ci sono non è sfiaio nia dopo i geni che all'ora non si fa vediamo se non vuoi accedere a questo veicolo personale perché sei mio non ha senso capullos non mi fa entrare aspetta devo chiamare un altro veicolo hello this is morse mutual insurance I can do that non c'è problema ah forse non lo so se sto distrutto vediamo qua ma è ancora integro e lo so però non lo so che ci ha fatto Gianluca l'ha chiarato Giuliano ci provi a entrare nel mio veicolo ma perché c'è scritto stronzo eh fosche rossa c'è scritto stronzo fosche rossa ma è rotta io non riesco a capire Gianluca l'ha buggata l'ha buggata you're through to your garage you want me to bring your eye I'll bring it by ma non ci può entrare vero quello è fermo è sparita è sparita fermi 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 uno spara io non lo so io non lo so no io non so non sono io non sono io si hai la play attaccata hai la play attaccata eh staccala no io giaccio la staccata però staccata staccata no 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 io quando gioco 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 bene ma sarà qualcuno tipo Gianluca no 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 io le cuffie le mie cuffie sono hai visto ma la telecamera è disattivata c'è scritto disattiva microfono della ps camera guarda prova 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 così eh perché Gianluca si sono io vedi che da tre ore che mi cerca di trollare non è fiero eccetto mi siete dati due cazzotti ma io sto cercando di chiamare 200 macchine e mi respawno dall'altra parte dell'isola vabbè entrò in garage va no 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 dove sei finito io devo entrare in garage devo entrare qua dove c'è Gianluca qualcuno ha prezzato quello che si è rubato il mio motorino povero Gianluca hai perduto la compagna infatti lo stavo dicendo io povero gabbiano hai perduto la compagna ecco c'è la macchina chi vuole salire io devo mi passare sali ok vamos dove si va ma questa macchina questa macchina la polizia è tutta cappottata io c'ho la foto di una macchina cappottata a Catania praticamente l'avevo condiviso su facebook ah ma tu te lo ricordi che tu mi avevi mandato una volta la foto di Davide Chio io ce l'ho ancora la vuoi rimandata? infatti tu me lo dicevi sempre ma dove si stava andando? eh però è su Messenger la devo cercare sì te lo giuro no voglio vedere ma manco te lo ricordi ma tu me l'avevi mandato tanto tempo fa su Whatsapp mi hai detto no ho incontrato Davide Chio avevo cercare sul Messenger allora se non mi ricordo male devi controllare sul Messenger sul computer e poi sul Messenger sulla mia chat c'è una chat tipo in mezzo scusa se dove stiamo andando? ah davanti da Gianluca aspetta che devo flexere la mia aspetta ti faccio vedere le macchina aspetta un secondo che c'è notti tanto non ce l'ho in mischi i covid siamo a casa noi sai per pazzo ma lo sai che c'è la ruretta qua tipo che puoi girare la ruota e ti danno dei premi ma no questa missione cioè non le faccio mai queste qua anche a grande bella a grande non quando il Geno ti fa volare lo ti dissor devi andare sul mobile devi girare tutta la chat c'è un casino ma sei andato su Messenger? eh si devi guardare la chat e ci sono un sacco di messaggi audio di sicuro c'è anche quella che cascava quella che cascava ma non è sul mio profilo è sulla chat invece c'era un video che aveva fatto Gianluca da un anno tempo fa non mi hai fatto i video no ti giuro Gianluca aspetta no 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 Gabriele eh che c'è? fermo lì ero su ero su ero su facebook ero su facebook sai che cosa c'era? siete dei pezzi di merda e c'era Giuseppe c'era Giuseppe praticamente e tu l'hai chiuso fuori e tu l'avevi chiuso fuori una volta Giuseppe no ho sbagliato ragazzi ma che sta dicendo? sono uscito sono uscito ha abbandonato così abbandonato abbandonato no ormai la facciamo come? deve andare più su deve andare più su ma che è sto gioco? si che ti chiamo impennata no ho messo in giro un male sono primo parliamo di tutto il fatto che ti amo ma c'è ciò che c'è di andare su super impennata oh Giuliano finisci la non capisco che c'è troppo veloce ma io mi ricordo quando giocavo da PS3 non so se ci sono le mie vecchie mappe che le avevo create su Rosta te lo ricordi? Rosta eh gabiere elettro tipo avevo creato e non ce la faccio no no non si può salire qui ma che è lento no 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 oh oh mi sono bloccato un trauma giratondo no mi sono ammazzato ho fatto un giro mi sono ammazzato ma scusa abbandoniamo non so manca abbandonare l'acqua oh che volo dai finita la partita finita la partita va vai finita ma perché c'è il potere ah perché sono morto poco fa come sta finendo fan club di time in pala grazie grazie ma Gianluca tu ce l'hai tiktok ma mi segui su tiktok Gianluca? no no non c'ho tiktok se vabbè allora guardalo su internet mi trovi su pure su internet no non ce lo dico no lo dico su internet ma lo troviamo su marta e Gabriele Gabriele è il primo avunizio del marta ma se mi fai su google lo trovo lo troviamo su marta e Gabriele Giuliano ma si accende i pc giochiamo tutti insieme a un gioco bellissimo nel pc te lo ricordi Bobba ci giochiamo non devi fare niente fanno da internet ci sono tutte le vecchie cose ci voglio riandare no ci sta ancora io da tanto tempo fa ci avevo shoppato c'è ancora Gabriele ancora ci gioca ne io un euro più bar non mi ricordo 500 no mi chiammelo salto si 500 euro mi ricordo che ho pagato 2 euro per 2 euro me l'hanno di 10 ma scusse non arrivo mai ma dove siate qua ci credo ma io sono nella gara ancora posso uscire? ma Minecraft ce l'hai ancora? dove si è arrivato? ma dove si è arrivato? mi ricordo che non l'ha messa nell'altro ma non era sua non è sua ah lui è sì cioè si cantano me come interrail come è stato arrivando? ma non c'è più quel bug su GTA quello che ci entrava la banca te lo ricordi? una volta facevi infatti forse una volta l'hai fatto con me il bug io ci giocavo su GTA 4 con te e poi mi hanno bannato il profilo della roster avevo messo le mod qualche cinque volte poi anche GTA 4 ci avevamo ancora ci possiamo giocare se accendi la prima volta poi i 3 no ma ci sono ancora ma se io prendo l'Xbox One ci sono ancora i server gli davo tutti i server ma perché? si ma se nessuno se nessuno ha GTA 4 se nessuno ha PS5 PS4 come fa a giocare? tipo il bambino povero che ha solo questo gioco eh lo sai abbiamo il pc di Ignazio qua a casa che l'abbiamo sistemato oggi ci ha chiamato ci ha chiamato e praticamente era nella macchina e io ho detto ma mi stiamo vedendo Top Gear era nella macchina stanno guidando io c'ho il gioco per PS4 flow cosa faccio? free mod? buono a pensione meglio della pensione con questo ti puoi comprare direttamente la PS5 allora compri il PC One e che quando la PS5 ci devono stare ma se tipo facciamo come Favij quel film che ha fatto lui che è in therapy e entriamo dentro il gioco Mimo ho visto mi farò sicare mi farò sicare io ho visto ho scaricato mio papà a me mi farò sicare Favij perché tutti quanti youtuber hanno la Vodafone game in casa è una game in casa con la Vodafone è una casa che praticamente l'hanno modificata con tutti gli stili dei gamer e game di Vodafone oh che cazzo fa questo con la macchina chi è qua vicino a me si ho un nome grazie Giuliano ti doveste unire nel mio cielo ti avevo invitato poco fa sei l'unico che non sei nel cielo per skip ah ma Gianluca non c'è più qua nel non c'è l'unico che non c'è secondo me ha staccato le cuffie non mi è arrivato se ora l'hai detto mi viene ad uccidere i poliziotti mi sto giocando un bagno in piscina come è freddo o caldo non si capisce che è sto suono e che è la macchina di Mr. Bean modificata la potete fare direttamente aspetta andiamo nel mio posto segreto ma dove siamo spawnati eeeh dove è wow wow una persona wow wow seguimi seguimi Giuliano seguimi ah qua è Gianluca è spawnato è spawnato in un deschio rosso ah vero alla taglia qualcuno lo deve ammazzare no un gattino è molto di copio ah pensavo su GTA c'è di GTA c'è di GTA c'è o di piatti non ha ne il messaggero infatti non possono prendere il covid semmai mi prendono malattia indossicazione o qualcosa solo noi lo prendiamo bastardo a noi scarica la app di amazon scarica la app di amazon ogni volta spunta scarica l'app bari completamente ma Giuseppe che fine ha fatto ma sta giocare GTA minchia ma di solito non giocava sempre a NBA io non ci gioco più ora tifo comunque lo dobbiamo invitare ci facciamo una partita fortnite facciamo modalità creativa non ce l'abbiamo come non ho capito aspetta che devo invitare a Gianluca nell'associato ho paura Gianluca ti ho invitato nell'associato e più mai usci non è ricalci Gianluca unisci nell'associato perché è così stai con noi io sono un uomo libero posso fare quello che voglio sei un uomo libero ma come aspetta 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 chi vuole per arrivare in questo posto di schifo eh 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 certo guarda che cos'è la macchina che è mio nonno non si è invitata alla festa ma come si fa a fare la modalità cinema nel gioco qua su su GTA ma in due in due in due in due oh inutile che mi butti le bombe mi è portata il menacer oh che cazzo ma ma me ne ributate qualche quattro ma me ne ributate qualche quattro ma me ne ributate quattro intanto resistite a quattro alla prima volta lui è cosa lui è Wolverine e a lui non riesci di ricevo ma riesce a morire non c'è lui non siamo più forse ah stop partiamo ci sono anche i balli tipo non lo so ci sono altri balli nuovi su GTA i selfie c'è pure ora arrivo nel bunker e vi invito ok da me come un'attività ti posso vedere che ma non è una macchina maschera partiamo di tutto del fatto che ti amo di brutto del sogno che volo aiuto aiuto la macchina si è spacciato tutta no ci stai invitando ma da dove non è che è scema parliamo del fatto che ti odio di brutto una tattica 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 devo entrare anche io vabbè tanto si sa chi se la contenderà fino all'ultimo ci sono solo due sfidanti qua io Giuliano arrivo tra 300 yard arrivo tra 300 yard arrivo no non è per il secco di fuoco alle ore 22 fino al 31 grazie c'è un cane c'è un cane ho fatto come c'è un cane cosa come 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 ma perché c'ho questi look ma io voglio il mio non mi interessa quello da barbone voglio quando scommettiamo non ho scommesso non mi abbassi il palino io volevo la macchina con le biciclette non ce la facciamo c'è lei dirmi non mi ha scommesso non mi capisco non mi capisco termini come ti capisco non mi capisco giusto giusto come finita ma rimetto capriola grazie chi è stato dal dammi un lancio perfetto porco di un dio sto volando martin l'arix anima si muove a star date le bastardate po perché c'è questa musica quando sei veloce finita aiuto io sto cascando aspetta siamo terzi adesso che buono superiamo gialluno superiamo non può sapere chiaramente palestina la rete fermi non sono solo io allora abbandonato diretto a un modo esclamativo mi stava ammazzando a un giorno caprieta sta mettendo il tito nella piaga che che buono super ecco lo sono casca sono caduto come faccio a ritornare nella mappa aspetta Gabriele si è perso ma mi sono lanciato in aria nel mare Gabriele si è perso ma non lo so ho fatto un volo pazzesco dai non vale però non è grassiato forse perché sta piovendo anche io c'ho Alex no perché in me di casa mi sono suicidata e poi non ho sentito più nessuno perché sono pelata cosa? ah chi mi ha caricato la storia è normale quando crashi vuoi sulla storia ma dove siete? già avete vinto? io sono cascato come io sono caduto un po' fa noi parliamo mi sono andato questo del fatto che ti amo mi piace fare i giri vai ne faccio un altro o chi si è rimando cazzo vai veloce zero è volato in aria è rimasto bloccato in aria è rimasto bloccato in aria è rimasto bloccato in aria e rimasto bloccato in aria e rimasto bloccato in aria Grazie.